Sposi Questo matrimonio è un po' strano. Come andare in autostrada contromano? Vi siete impegnati civilmente quando Sofia ormai è già presente? I neuroni di un nonno cosa possono far pensare quando pochi anni addietro? La fidanzata non la potevi toccare e rigide leggi di religione imponevano alla coppia tanta discrezione soggiogate dal potere paterno della fanciulla non sposata dominata per far sì che all'altare arrivasse illibata Questa trasformazione ci fa pensare che la vita è una cosa semplice quasi una favola da inventare per far stare buoni i nostri bambini carpendo a loro un sorriso quando ci sono vicini Questo film ritroso che state vivendo Il frutto del vostro amore forse in questo momento sta dormendo sognando una realtà per poter dire da grande Io c'ero quando si sono sposati mamma e papà